Mi ricordo che allora mettevano giù il lino, il frumento, e che l'altro gli dicevano la melga, la segale, perché i prati tutti andavano sopra, mettevano tutti, ogni padrone metteva la sua segale, il suo frumento e il suo lino. Allora io mi ricordo perché noi a casa abbiamo avuto la fortuna di avere degli zii molto anziani che coltivavano, perciò coltivavano sia dall'orzo alla segale e con la segale mi ricordo che si facevano, veniva raccolta, poi si facevano questi covoni, si facevano seccare bene, poi noi avevamo in casa un corridoio molto largo, veniva steso un telo sotto e sopra tutti questi covoni e con un attrezzo che si chiamava, io in dialetto dicevo flel, veniva battuto e mi ricordo che la zia me ne aveva fatto uno più piccolo perché potessi fare anch'io questo lavoro, ecco e dopo si faceva il pane e noi avevamo un bellissimo forno. Quando era maturato tutto c'era un signore che aveva la trebriatrice, non era come adesso che è la farina, le tutto, allora c'era anche la crusca dentro, era anche più buona, si amalgamava di più, dopo allora avevamo le mucche e dunque impastavamo anche il pane con il latte, ciao, buono, buonissimo, e appena essa, e dopo facevamo i biscotti, la sgertunina, ma favo i biscotti, tomate, di zucchero, ne vedevamo poco quei biscotti lì. Una volta erano parecchi che avevano segale, frumento e grano turco, ma negli anni 50-55, in quel periodo lì, anche prima, ecco lì, fino a quelle, fino a periodi 60-60, dopo basta, dopo hanno smesso, se no dappertutto c'era. A livello di evoluzione dell'agricoltura in Valle di Scalve bisogna segnare un paio di passaggi fondamentali, il primo è stato quello dell'introduzione del mais, il secondo passaggio fondamentale è l'introduzione della coltivazione della patata che è avvenuto nel 1814 grazie a Giovan Battista Grassi di Schilpario. La patata invece ha preso particolarmente piede e ha sopperito notevolmente alle esigenze legate all'alimentazione soprattutto delle famiglie più povere. Io lo facevo in tempo di guerra, perché io abitavo allo Scalvino. Il pane con le patate, mi impastava, mi impastava, è bello il mio, è bello il giù, certo. Buongiorno, ci troviamo in Frazione Pianezza nel comune di Vilminore di Scalve, nella Bergamasca. Vi voglio presentare il forno della casa, tra virgolette parrocchiale, perché questa era una cappellania dove risiedeva il cappellano del paese. Ecco questo è un forno del 1894, come vedete bene dallo sportello con la data, dove il cappellano invitava una volta a turno, a settimana, una famiglia per poter panificare e poter così aiutare le famiglie del posto. Allora, sono Maurana Marcelli, la presidente della biblioteca di Vilminore di Scalve, che si è fatta promotrice l'anno scorso del progetto del paneer in Val di Scalve. L'esperienza dell'anno scorso è stata talmente positiva e noi credevamo fortemente in questo progetto, al punto da esserci impegnati nella coltivazione della segale in valle, nella nostra zona, seguita, seminata, seguita, raccolta e battuta qui in zona. Allora, Claudio, non siamo a una gara di barbe, no? No, non siamo a una gara di barbe, però ci siamo incontrati le due barbe, una della Val Camodica e l'altra della Val di Scalve e siamo venuti a vedere la semina dello panneer. L'anno scorso è stata fatta la festa dello panneer e siamo venuti a vedere quello che abbiamo seminato l'anno scorso. Quest'anno riprendiamo e abbiamo la segale. Infatti siamo nell'ortogiardino che è? Del comune di Vilminore. Minore, coltivato da? Da gli alunni della scuola primaria. Questo, eh? Questo pezzo coltivato dall'unni della scuola primaria e quest'anno raccoglieremo e rifaremo la festa dello panneer con le prime spighe di segale seminate in Val di Scalve. Questa qui c'è ancora il segno dei fiori. Oggi qua al campo dell'azienda agricola Butep c'è stato il taglio della segale. Non mi aspettavo ci fossero così tante persone e questo mi ha stupito tantissimo. C'è stata un sacco di partecipazione, un sacco di convivialità che era proprio quello che stavamo cercando e quindi questo è solo l'inizio. Allora, la cosa che mi ha fatto più piacere oggi è stata quella di vedere le persone che si sono adattate a fare il taglio della segale. Ma il più che vale è la compagnia perché se non ci fosse la compagnia sarebbe morto tutto. Allora ho visto che tutti si sono prestati e veramente sono stati tutti molto bravi perché hanno fatto ciò che gli sia stato detto perché la segale va tagliata circa a metà e poi fare i covoni e andrebbero messi al sole. Ma siccome il tempo non lo permetterà probabilmente allora li mettiamo nella stanza. Ma mi raccomando che diventano bei secchi altrimenti la segale non esce. Non faremo né pane né niente. Hai capito? Invece se sarà bel secco noi faremo un bel pane perché il pane di segale è buonissimo. Come avete visto abbiamo raccolto la segale. La segale per la festa dello Paner che si terrà nei mesi di settembre di ottobre in varie località compresa anche Teveno. La cosa importante è il fatto che è una festa di comunità, è una festa che raccoglie tante persone. Viva la festa del pane nero! Via eh? Posso cominciare? Abbiamo talmente creduto in questo progetto da impegnarci insieme al gruppo che lavora con noi di ragazzi e di aziende del territorio. Aziende agrile del territorio ci siamo impegnati e quest'anno siamo riusciti a realizzare addirittura tre momenti. Buongiorno oggi ci troviamo per la festa dello Paner alla Fucina di Teveno. Siamo lieti di ospitare alla Fucina di Teveno la battitura della segale in occasione della festa dello Paner. Quindi un luogo possiamo chiamarlo oltre del ferro ma della memoria storica della valle. Quindi cosa di più che ricordare un'attività come l'agricoltura, come appunto la coltivazione e la lavorazione dei cereali in genere. Un lavoro eccezionale dal punto di vista dell'incontro delle persone e dell'incontro con le persone sul territorio, sulle caratteristiche del territorio e anche sui prodotti praticamente che il territorio produce. Sono Pier, il titolare del panificio di Piazzola a Vilminore e quest'anno abbiamo fatto il pane per la festa dello Paner con la farina di segale del territorio. In occasione della festa tra l'altro abbiamo anche scoperto alcune antiche ricette che abbiamo proposto quest'anno, il pane con le patate e il pane con la segale appunto e con le noci. Tra le varietà di pane di quest'anno che abbiamo preparato per la festa del pane nero, il nostro panettiere Pier, c'è il pane con le patate di teveno e i grissini col nostro finocchietto selvatico coltivato dall'azienda agricola VTEP. Siamo molto attenti all'utilizzo di materie prime del territorio, quali può essere le noci o la segale. Se qualcuno ha voglia di magari mettere giù dalla segale, che i prati non mancano, il forno è disponibile. Mi chiamo Yuko. Ciao io sono Andrea. Siamo venuti quasi tre anni fa a vivere a Schirupario e noi adesso creiamo un orto delle api una volta gestito e mantenuto dalla sua famiglia. E quindi siamo contenti di questa giornata di aggregazione dove abbiamo possibilità anche di incontrare qualcuno che come noi fa appunto apicoltura o agricoltura. Siamo qui oggi alla festa del pane che è il pane di segale che è sempre stata la tradizione nella Val di Scalve e abbiamo anche fatto un laboratorio di tessitura. I laboratori, i fili delle radici sono stati ideati per il progetto il turismo delle radici e abbiamo pensato qua di fare la tessitura basandoci su due autrici italiane che una è Francesca Rigotti che spiega la metafora tra testo e il tessuto e poi anche Maria Lai che era la prima artista che ha creato un'opera dell'arte relazionale che anche qui la tessitura artistica che abbiamo fatto era con l'intervento di tante persone che vivono il posto che vengono a visitarlo appunto come il turismo con i fili che si usavano qua da tempi cioè lino e il filo di lana. Io sono Milda e vengo da Lituania che abitavamo con mio marito tra Milano e Pavia e poi abbiamo deciso di cambiare la vita e ci siamo trasferiti in Val di Scalve. Io ringrazio semplicemente tutti, tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto con ruoli diversi ma che hanno lavorato a questo progetto e che ci hanno sostenuto e che ci sono convinta ci sosterranno anche in futuro. Un ringraziamento va anche alla mia amica Antonella che purtroppo che oggi doveva essere qui e vicino a me e della cui voce mi faccio portatrice in quanto Antonella non sta bene. Facciamo tantissimi auguri e speriamo di averla prestissimo fra noi e l'anno prossimo ancora a raccogliere la segale, a batterla e a fare quant'altro. Grazie Antonella, grazie del lavoro incredibile che hai fatto, grazie mille. Un ragazzo nato e cresciuto a Milano, ho studiato a Milano e ho detto no, un bel giorno mi dice vado a vivere in un'altra città e la città è venuta a te bene. Se io avessi un'altra età, ricomincio da capo e mi faccio il mio forno ancora. Se tu coltivi quelle cose lì e le coltivi te, sei sicuro che sono buone. Dopo vedi che non saltano fuori tutti i mali che saltano fuori e il resto più sani tutti perché mangiano sano. L'importante è che... Siete troppo buoni. Viva la festa dello Paner, rifare. Non è desorden. Grazie.